Il reddito di cittadinanza partirà nei primi mesi del 2019, ma in Abruzzo i centri per l'impiego sono allo sbando per carenza di personale e per la mancata nomina del responsabile che dovrebbe occuparsi del coordinamento. A lanciare l'allarme è la CISL Funzione Pubblica attraverso il suo segretario regionale Vincenzo Traniello, il quale chiede alla regione di affrontare con rapidità le problematiche strutturali dei centri per l'impiego, visto che dallo scorso primo luglio, sono di competenza regionale e sono organizzazioni strategiche per l'attivazione delle politiche attive del lavoro e per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Purtroppo manca sia un coordinamento regionale di questi centri e mancano soprattutto strutture e un modello organizzativo uniforme su tutto l'Abruzzo. Abbiamo soprattutto le province di Pescara, Chieti e Termo che sono in forte sofferenza per la mancanza di risorse umane e di specifiche competenze. In più a questo si aggiunge una mancanza di organizzazione, di coordinamento sia per i centri per l'impiego delle tre province prima citate e anche per l'Aquila. Mancano addirittura collegamenti intranet, internet e anche strutture di supporto per poter dare risposte competenti ai cittadini che si rivolgono ai centri per l'impiego. Siamo fortemente preoccupati per questa situazione perché alle competenze che oggi fanno capo ai centri per l'impiego si aggiungeranno anche il reddito di cittadinanza. Ma con questo modello organizzativo sarà difficile che potrà essere gestita questa nuova incompensa che cadrà sui centri per l'impiego. E quali sono le proposte della CISL? La CISL ritiene che da subito bisogna individuare all'interno della struttura regionale o del Dipartimento un dirigente che coordini tutti i centri per l'impiego, che ci sia uniformità di apertura dei centri per l'impiego e soprattutto vengano potenziati i centri per l'impiego delle province di Teramo, Pescara e Chieti.